E' il turno dei gentlemen in questa quarta, sono su cavalli di quattro anni sul miglio, non partente tuono gigante, ne rimangono in undici, uno undici lagate da porto di scuderia, non c'è più il due nove, mentre c'è anche la scuderia cinque dodici. Due euro Tigellino-Luis pronta a un primo piano, c'è il buon somma in Salchi. Arretrato Treseguet, galoppe il sette Tormento-Ville, più che buono l'allineamento e va bianca alla grande il lancio, allacciate le cinture e si lotta per il comando con Tintoretto che mantiene i birilli con Taiga getta a largo. Cavalli che affrontano la piegata, ci va al completamento del lancio in tredici e tre e subito viene il favorito Tigellino, Tigellino si presenta sul Tintoretto, il Tintoretto per il momento ha il comando, Tigellino prosegue, ventotto e sette i quattrocento, Tigellino trova strada sbarrata, poiché il leader di dentro stiracchia un po' molto e quindi si deve adeguare. Il buon Amodio a natura vertiginosa 42,9 da 1,11 e mezzo. Il Tintoretto, Tigellino, è partita la grande Typhoon Gar, poi la Taiga jet. Si va al completamento del mezzo miglio, mezzo miglio nell'ordine del 58,1, 15,2 di frazione e continua il Tintoretto ad andatura sostenuta, stiracchia sempre alle redine lunghe del ragioniere. Così si va un chilometro bollente per la categoria in 1,12,8, 14,7 di frazione. 500 alla meta, il Tintoretto ha il comando, il Tigellino alza bandiera e non era normale, ha trovato un cavallo ad andatura sostenutile, riparte lì Tintoretto, Typhoon sbanda un po' e viene infilato da Taiga jet, se ne va il Tintoretto, se ne va Tintoretto in chiara fuga e vuol fare una pittura extra lusso il ragioniero con questo Tintoretto e mi sa che è proprio lui il Tintoretto. E che pittura, che pittura, viene via bene Tabuz, galoppa Taiga e Taibuz è secondo, mentre Treseguet a largo è buon terzo. 3,1,8, 1,58,3, chapeau, 1,13,9, il Tintoretto e che pittura, i colori della safra, il team Minopoli, ma bisogna dare atto, guardate, arriva a redini bassi il ragioniero Amodio e come stiracchiava da 1,13, insomma, signori, uno chapeau, è d'obbligo, è duopo. Il Tintoretto, veramente una pittura magnifica, 7,40 in lavagna, niente male, linea allo studio. Grazie. Grazie. Grazie.